Siamo al centro sportivo Baggio 2 di Milano, dove questa sera comincia il campionato A7, appunto di calcio A7, prima giornata dunque di fronte al manager Italia contro Hotbrits, abbiamo qua due rappresentanti per ciascuna squadra, cominciamo dal manager Italia, il mister si chiama? Regneri Padovani, invece qui abbiamo il capitano, che sei? Sono uno dei due figli, Luca Padovani. Perfetto, qua invece abbiamo Hotbrits, tu sei? Alessio Bonelli, Stefano Morace. Allora cominciamo qua per dovere, siamo ancora persona mister, a chiedergli qualcosa, allora voi siete una squadra nuova quindi, avete già fatto dei tornei per lo Sporta come campionato la prima volta, con quale obiettivo affrontate questa avventura? Di salvarci, siamo molto modesti, ma insomma voglio dire, siamo un po' vecchietti, per cui cercheremo di fare nel nostro meglio, ma insomma comunque il nostro obiettivo è il salvataggio. Capitano immagino che vorreste fare qualcosa in più, dai, qua secondo me il mister è stato un po' troppo, come si dice, modesto, no? Il suo compito è quello di, come dire, di essere quello che è giusto, che non accende gli animi, no? Noi sportivamente, come dire, nell'indirizzo di Sportland cercheremo di fare il nostro campionato e di rendere la vita dura a tutti i nostri avversari, nel rispetto dei nostri avversari. Ecco, invece voi per quanto riguarda Hotbrits, mi dicevano prima che siete la squadra rifondata, come mai? Sì, noi è un po' di anni che ci proviamo con vari nomi, abbiamo fatto anche il campionato primaverile, un po' per problemi di lavoro abbiamo perso un po' di persone, così, e quindi adesso ci riproviamo quest'anno con gente principalmente nuova, quindi saranno 5 su 10, che è tutta la ruota della squadra, i nuovi. Diciamo che come obiettivi puntiamo parte alta della classifica, comunque cercheremo di impegnarci al massimo per raggiungere questo obiettivo. Ecco, tu sei anche il ministro della squadra, insomma, che tipo di organico hai a disposizione? Allora, siamo un po' datati, nel senso più o meno trentenni, abbiamo degli innesti giovani di 20 anni che purtroppo stasera non ci sono, abbiamo fatto una buona preparazione atletica, abbiamo fatto un mese di preparazione e speriamo che serva a qualcosa, a dare un po' di forza nelle gambe per uscire in obiettivo. Allora, grazie, bocca al lupo a tutti e buon campionato! Grazie a voi, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. 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 Grazie a voi. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie a voi. 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 Ciao. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. e non è il gioco e non è il gioco facciamo bene 3 contro 2 uno sul portiere caccia 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 bravo caccia 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 bravo caccia 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 bravo va bene a me sta caccia semplice andiamo andiamo di qua dietro spoggia dietro caccia bravo bravo caccia gioco a tutti e due vado in destra vado 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 Grazie a tutti.